Piedere se vuoi, qui dietro di me c'è scritto che il Signore Gesù è la via, la verità è la vita, ma in realtà tu sei venuto per prendere la lista delle offerte di lavoro del 4 febbraio. E grazie a Dio ci sono varie persone anche oggi che sono venuti a prendere la lista delle offerte di lavoro, ma anche per ascoltare il messaggio della parola. È stato letto adesso da Apocalisse a questo capitolo qua, il capitolo 20, dove ci parla della diletta città, dove ci parla anche di Satana che viene sciolto e poi vinto per sempre, è stato chiesto alle persone di accettare il Signore Gesù come salvatore personale e di chiedere allo Spirito Santo di abitare nella propria persona. Quindi vediamo adesso se c'è qualcuno tra di voi che ha qualche domanda da fare. E grazie a Dio!